Ok, sono tutti contro l'Enderman, sono tutti contro l'Enderman, che cavolo sta facendo? Che... Oh, mio Dio! Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo fantastico video di Minecraft. Come state? Spero tutto bene, tranquilli, sono io, bella faccia. Mi trovo in questo fantastico mondo oggi perché vi mostrerò tutte le versioni mutanti dei mostri. Sarà una cosa incredibile, saranno potentissime, voi non avete idea. Lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi se non vi siete iscritti perché tutti i nuovi che mi guardano, ragazzi, non si sono ancora iscritti. E che cosa aspettate? Forza, forza, è gratuito! Allora, siete pronti? Con questa pozione Chemical X possiamo trasformare tutti i mostri in mutanti e quindi vedremo tutti i mostri nelle loro versioni mutanti, sarà una cosa incredibile. Qui abbiamo già il maialino, possiamo fare una cosa veramente incredibile. Sei pronto, maialino? 3, 2, 1... Pum! Ok, guardate questa pozione, è piena di teschi, lo sta facendo diventare... Oh! Un arrosto di maiale, ecco. Non funziona su tutti perché i più deboli muoiono, giustamente. Proviamola subito al nostro amico Creeper. Ciao, Creeper. Diventa un super Creeper mutante! Oh mio Dio, oh mio Dio, vediamo. È morto, ragazzi, non ce l'ha fatta. Secondo me non tutti riescono a trasformarsi, perché è troppo potente questa pozione. Vediamo chi sarà il vincitore. Oh! Quello lì si è trasformato! Anche quello! Oh mio Dio, guardate che mostro! Guardate che mostro ribillante! È un mutante, è un Creeper mutante. Guardate che brutto! Perché tu non sei diventato un Creeper mutante? Mio Dio, è bruttissimo, ragazzi. Cioè, guardate che roba! Oh! Mamma mia! Ma vi immaginate trovarsi davanti a una roba del genere? Voglio subito provare dopo, però. Adesso trasformiamo altri mostri, perché c'è anche l'Enderman, ragazzi. E l'Enderman fa veramente paura. Trasformati in un mutante Enderman! Non scappare! Pensi che sia così semplice scappare? Dove è andato? Si starà trasformando! Si è trasformato! Oh mio Dio, si è trasformato! Guardate che roba! È orribile! Adesso proviamo a farli combattere. Guardate che roba! Sei cattivissimo! Con queste braccia gigantesche! Ok, possiamo anche creare il Golem di Neve mutante. E questo ci aiuterà. Ok, Golem di Neve. Contiamo tutti su di te, eh? Contiamo tutti su di te per diventare il mutante più forte. Dai! Devi prendertela con quelli più grossi di te. Forza! Oh mio Dio, guardate! Guardate che roba! Vagli a attaccare, bravissimo! Gli hai visti! Gli hai visti! Sì, così! Tiragli il ghiaccio, porca miseria! Guardate che bello! Dai, vagli a prendere, forza! Vagli a prendere! Non guardare me! Vagli a prendere! Fa troppo ridere, mi sa, il ragno, ragazzi. Guardate! Diventa un ragno zombie! No, no, non me lo uccidere prima! Non me lo uccidere prima! Non me lo uccidere prima! Eh, porca miseria! Ok! Mi metto la visione notturna e metto notte. Oh, l'ha visto, l'ha visto, l'ha visto! Oh mio Dio! Oh! Guardate che roba! È volato in aria! È volato in aria il creeper, però adesso si è bloccato! Vai, uccidilo! Uccidilo, bravissimo! Oh! Sta volando in alto! Guardate che roba! È super potente! È super potente il creeper! Guardate che roba! Però lo zombie tiene! Lo zombie... Eh, lo zombie, sì! È la zucca! Il golem! Il golem di neve! No, è stato annientato! No, ma è troppo potente! Voglio provare a mettere un golem normale! Se vediamo quanto sono forti questi mutanti! Oh! E mettiti! Ma che cavolo? Ok, vediamo! Voglio mettere gli scheletri! Dai! Dai, scheletri! Diventate mutanti! Diventate mutanti! Diventate mutanti! Oh mio Dio! Sono diventati dei mutanti incredibili! Guardate questi scheletri! Guardate questi scheletri! Sono super forti! Sono troppo forti! Guardate che roba! Ok, mettiamo altri golem di neve potenziati! Mettiamone altri! Oh mio Dio! No! L'ha triturato! L'ha triturato! Ragazzi, ma addirittura... C'è il mutante zombie! Guardate che roba! Guardate che roba! È gigantesco! Oh mio Dio! È troppo gigante! E poi che cosa c'è che non abbiamo visto? Il creeper? Sì, lo scheletro! L'enderman c'è! Mio Dio! È troppo potente! È troppo potente! E poi abbiamo... Il ragno maiale! Che brutto! È orribile il ragno maiale! Che schifo! È il mini creeper! Non so perché c'è anche questo mini creeper! Però mamma mia! Ok, voglio mettere una marea di golem! E dopo li affrontiamo! E dopo li affrontiamo tutti! Secondo me ci distruggono! Forza, 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 forza! Agnientateli! Agnient... Oh! Guardate! Guardate l'enderman! Quanto è forte! Guardate quello! Sì, è Hulk! È Hulk quello zombie! Guardate che roba! Vole in aria! È troppo bello! Guardate che roba! È super potente! Cioè, guardate che sfida! Oh, guardate lì! Si stanno sfidando tutti! L'enderman contro lo scheletro! Il ragno! Il ragno maiale sta mettendo le ragnatele! È una distruzione di massa! Chi vincerà, secondo voi? Cioè, guardate che roba! Ma quanta vita hanno! Oh! Oh mio Dio! Cioè, addirittura mi ha spostato che sono in creative! Non muoiono, non muoiono! Ok, l'ho distrutto! Guardate! C'è lo scheletro! C'è... Oh, c'è... Oh mio Dio! Si è proprio distrutto! Ok, chi vince qui? Chi vince? Chi è che ha generato tutti questi zombie? Ok, sono tutti contro l'enderman! Sono tutti contro l'enderman! Che cavolo sta facendo? Che... Oh mio Dio! Si è distrutto! No ragazzi, ma questa moda è troppo bella e fantastica! No! È morto! È morto lo zombie! Ah no, è vivo! È ancora... È ancora vivo! No ragazzi, voglio... Voglio provare... Ad attaccarli! In survival! Secondo me mi distruggono! Mi faccio alla svelta una super armatura, una super spada e ci vediamo fra poco! Ok, mi sono spostato nel deserto perché è il luogo perfetto per combattere! Come Goku quando doveva combattere contro un non so chi! Però ci siamo! Allora, mettiamoci in survival! E non so, proviamo a spawnare... Attacchiamo magari il maiale ragno che mi sembrava quello un pochettino più facile da combattere! Ok, ho tutto eh! Proviamo subito a mangiare una mela! Ho paura, ho paura, vediamo! Ciao! Mi attacchi? Ciao! Ti attacco io eh! Ahio! Ok! Mi sta attaccando? Ho affilatesza 5 eh, vi ricordo! Ok, mi ha intrappolato! Mi ha intrappolato! Gli ho dato un colpo! Due! Tre colpe! Vieni qui! Porca miseria, mi ha intrappolato questo maledetto maiale! No, 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 no! Fammi uscire! Fammi uscire! Ok, distrutto! E le ragnatele sono scomparse, ok? Non è così forte come sembrava! Voglio provare lo scheletro! O lo zombie, dai lo scheletro! Proviamo! Io ho paura eh! Ho paura, proviamo! Vai! Ok! Con la super balestra! Aio! Aio! Ok, pensavo che cavassero di più! Vieni qui! Mi ha avvelenato! Mi ha avvelenato! Aio! Mi ha tirato un colpo bestiale! Guardate! Mi tira un pugno per allontanarmi da lui! Muori maledetto! Oh mio Dio! Calmo, calmo, calmo! Eh? Vuoi giocare a tirare le frezze eh? E beccati questa! Oh mamma! Oh mamma! Devo mangiare una mela d'oro forte! Vieni qui maledetto! Dove sei? Fatti prendere! Aio! È super forte! È super forte! No! Vieni qui! Fatti prendere! Vieni qua! Mio Dio! È troppo potente ragazzi! È troppo potente! Aio! Iiii! Iiii! Ok! Vuoi la guerra? E la guerra sia! Vieni qui! Ok! Adesso mi impegnerò di brutto! Hai capito scheletrino? Non muore ragazzi! Hanno un sacco di vita! Io non ho idea di quanta vita abbiano! Muori! Sì! È distrutto! Mio Dio! Ma sono bellissimi questi mostri! C'è! L'ho polverizzato! L'ho polverizzato! Ok! Prossimo! Il... Lo zombie! Ok! Vai! Zombie! Sono qui! Vieni! Oh cavolo! Aio! Vieni qui! Che cavolo è Hulk? Porca miseria! No! Calmo! Calmo! Calmo Hulk! Ehi! Muori! Muori maledetto! Zombaz! Aio! Ma fa malissimo! Fa malissimo! Porca miseria! Vieni qui! Oh! No! No! Muori! Devi morire maledetto! È super forte ragazzi! Muori! 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 Oh! Oh! Porca miseria! Ma che cavolo è? È Hulk ragazzi! C'è questo qui è Hulk! Sì! L'ho ucciso! L'ho fatto fuori! Sono io al vincente! Oh! Ma che cavolo è? Ma sei ancora vivo! È impossibile! Ti avevo ucciso! È ricascato! Ma come faccio a ucciderlo? Non muore! Non muore! Non muore! Non muore! Non muore! Come cavolo faccio ad ucciderlo? Sarà morto o non sarà morto? No! Non è morto! Sì! Morto! E mi ha dato anche un martellone! Se l'ho fatta! Ok! Prossimo! Proviamo il golem di neve! T'attacco eh! Sei pronto? Vai! Oh cavolo no! E t'ho spawnato! Mi sono scordato! Ok! È caldo! Stai anche sudando! Scusa! Mi devi attaccare! Lo so! Ok! Questo qui non mi attaccherà mai! Perché l'ho creato io! Però guardate quanto è forte! Ok! Mi dispiace! Proviamo! Il creeper! Perché mi sembra che l'enderman sia il più forte! Ok! Creeper! Ci siamo! Oh cavolo! Calmo! 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 Non picchiarmi con quella testa enorme! Maledetto creeper! No! 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 Un totem! Mi serve un totem! Oh cavolo! Non farti mai più esplodere! I mini creeper! Ecco! Che cavolo erano quei mini creeper! Evoca dei mini creeper! Vieni qui! Fatti uccidere! Maledetto! Fatti uccidere! Vieni qui! Che cavolo è? Che cavolo è? No! Uuuuh! Avete visto che cavolo? Un uovo! Mio Dio si è caricato! Cercava di attirarmi verso di lui! È stato bellissimo! E qui c'è un uovo di creeper! Ok! Ho droppato un uovo di creeper! No! Ma bellissimo! Se avete visto l'esplosione finale! E adesso proviamo ad uccidere l'enderman! Mutante! Siete pronti? Sembra che ho detto l'enderman! Oh! Che cavolo ho sulla testa? Oh! Mio Dio! Ma questi scherzi! Vai! Enderman! Via! Vieni qui! Maledetto! Oh! Porca miseria! Non provarci! Non provarci! Oh! Mi ha dato nausea! Mi ha dato nausea! È potentissimo! No! Mio Dio è potentissimo! Dov'è? Non lo vedo! Dov'è? Sta spostando tutto! No! Non tirarmi! Non tirarmi con le cose! Mio Dio! No! Mi tira! Mi tiri i blocchi ragazzi! Avete visto? Fammi uscire! Fammi uscire maledetto! No! Non tirarmi con i blocchi! Dov'è? Non lo vedo! Dov'è? Non lo vedo più! Non lo vedo più! Beccate questo! Basta con questa sessità! Muori! 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 Maledetto! Dov'è? È qui! Muori! Oh mio Dio! No! Questo è il più forte ragazzi! È il più potente di tutti! Non vedo più niente! Dov'è finito? È qui! È qui! È qui! Non lo vedo! Che cavolo! Che cavolo sta succedendo? No! Lasciami in pazza! Mio Dio! Lasciami in pazza! Porca miseria! È qui! Muori! Muori! Oh! Aio! Mela! 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 Lo sapevo che era il più forte questo! Dov'è? Non lo vedo più! Muori! 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 Oh! Calma! 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 Chi è? Chi sarà di questi? Chi sarà? Eccolo! Muori! Muori! Mio Dio! È fortissimo! Enderman! È il tuo giorno! Devi andortene! Vieni qui! Vieni qui! Torna qui! È troppo forte! È troppo forte! Aio! Ma ti decidi a morire! Oh! Ok! Ok! Sta morendo! Che cavolo! No! Porca miseria! Aio! 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 Ok! Ok! Calma! Calma! Ok! Va bene! Va bene! Ok! Perfetto ragazzi! Per questo video è tutto! Fatemi sapere qual è stato il vostro mostro mutante preferito! Mio Dio! Mi sono divertito! Un sacco da bella faccia è tutto e ci vediamo Al prossimo video ciao Ciao